Lei vende volta di scrivere, io vi ringrazio per ricordarti sempre di Bruno, ormai penso che per me sia diventata un'istituzione, questa situazione di religione che farà, che ci sarà un futuro nel quale nelle marche non ci sarà la protezione dedicata a un programma, ormai è diventata storia. Qua ci manca anche i rinzetti, oggi non si è capito, però se uno ha mandato il suo pillo a fare la competition lui ha detto, o viene lui o bevo io, e io gli ho detto, guarda Stefano, io ti voglio un bel time, però lui è dieci volte più carruccio di te, e pure più simpatico, perché dopo un po' ti dicono, oh un belere, no io non lo posso dire avanti a tutti, però lui gli ho detto, allora, va bene, Nella Switch abbiamo preferito, abbiamo preferito il competitor, spazio ai giovani, però se c'era lui, no, se c'era lui, mi presentava lui, io sta cosa, capito, non la dovevo fare. Allora possiamo fare uno, eh, tipo adesso io faccio prima, no, cara, me ne rimane? Faccio la prima batteria, poi se c'è qualche volontario che vuole fare la seconda, io gli ho detto il microfono, eh. Ah, per me non ho guardato tutto, che pezzo di shaker che mi hanno detto, mamma, eh, che pezzo di shaker? Ma un applauso quando uno shaker si sapeva? Ma che si faceva? Anche perché, ecco, vedi, sono due a shakerare, gli altri miscelano, quindi, cioè, ecco, scusami. Invece qua c'è la sezione decorazioni, nel vangolino, quindi chi volesse anche avvicinarsi al tavolo dove stanno preparando le decorazioni per la competition, quella che chiamano competition, adesso, che si chiama più gara, già uno spettacolo interessante e bello da vedere anche da quest'altra parte. Abbiamo anche un ospite a questo evento che viene da una regione un po' lontanina da noi, però è molto vicina al nostro cuore perché è un po' di casa. Io ringrazio lei, Chiara Contini, perché lei si dà sempre e comunque da fare, anche se è ospite, lei è sempre strepitosa. Ma il nazionale di quest'anno a spesa, se non fosse stato per Michela Contini, probabilmente non si sarebbe fatta poi così bene. No, è stata tutta un'organizzazione fantastica, però lei è stata veramente strepitosa. Grazie di essere qui con noi di nuovo. Ormai l'abbiamo... com'è che l'abbiamo adottata? Prima è una... com'è che abbiamo detto che se è una... non è socia, ma è... non è socia delle Marche, non è... L'abbiamo trovato una definizione. Sì, sì, abbiamo detto una roma, però non la ricordo più. Sì, una consorella, consorella, una consorella. Allora, siamo addirittura d'arrivo con i drink, vedo che cominciano ad essere esposti davanti al banco. Poi dopo questi drink dove li portiamo, c'è la signora Contini che si è offerta di fare questo servizio. Ok. Quindi i consegni, vedete che sono bellissimi. Ovviamente, ogni cosa che si parla di drink, il colore predominante è rosso, comunque un colore che ricordi... con l'amparato, il romino, l'arancio... Sono tutti colori molto allegri e molto divertenti. Qua c'è addirittura qualcosa che fuma. Bravo Davide! Eh, non si dico le lumi! Allora, stavo dicendo del colore degli aperitivi. Perché sono rossi? Perché vabbè, al di là del fatto che tendenzialmente è eminenza dell'amparato. Al di là del fatto che... che il rosso è il colore, diciamo, dominante dei glitter italiani, anche se ce ne sono due gialli, di verdi, adesso c'è anche Bordiga che fa il glitter verde, che non è male, carino. Però tendenzialmente i glitter, comunque i verbi, sono un portaposso rosso. Però è anche vero che il drink aperitivo è un drink che deve mettere all'eperia, quindi non può essere un colore spento. Allora, stiamo servendo le coppele, io direi che... Eh, poi... Signora Contini, senta che poi dovrei valutare le decorazioni, no? E lei mi sa se c'è un tavolo preposto. Grazie, lei mi sa se c'è un tavolo preposto. Eh, non si dice questa cosa. Penso che il fiduciario si è informato su questo lavoro. La valutazione per la parte decorazione, che punteggio ha, così lo raccontiamo, da uno a... ... ... ... Grazie a tutti.